Meno reati che calano di oltre il 10% resta invece la piaga dei furti in abitazione che nel comune capoluogo crescono seppur lievemente. Questa la fotografia della provincia aretina scattata dai carabinieri del comando provinciale che hanno stilato un bilancio del 2019 rendendo così nota l'intensa attività sul fronte della sicurezza. Un bilancio decisamente positivo, il lavoro dell'arma nella provincia di Arezzo è stato molto proficuo e con altrettanto impegno ci apprestiamo ad affrontare l'anno 2020. I militari nei primi 11 mesi hanno controllato più di 102.000 persone ed oltre 66.000 veicoli. I carabinieri inoltre hanno proceduto per l'84% degli illeciti compiuti nell'aretino scoprendono il 31,3% con la conseguente denuncia di 2.783 soggetti e 273 arresti. I reati denunciati complessivamente sono in calo dell'11%, furti, il leggero decremento seppur in controtendenza resta il dato del territorio del capoluogo. Effettivamente nel capoluogo si registra un incremento più marcato rispetto al resto della provincia. Questo è un dato sul quale dovremmo riflettere e vedere come affrontarlo al meglio. Chiaramente in questo caso nei tavoli istituzionali preposti, ovvero sia il Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica. Significativa anche l'attività antidroga con 77 arresti, 107 denunce e il sequestro di oltre 48 kg di sostanza superfacente. È una delle emergenze di questa provincia. Purtroppo i reati in materia di sostanze superfacenti hanno un andamento più o meno costante negli ultimi anni ed è uno dei fenomeni che purtroppo è presente in questa provincia e sul quale ci sarà da parte nostra il massimo dell'impegno. Due in particolare le operazioni portate a termine negli ultimi mesi. Ad ottobre in manette erano finiti quattro cittadini nigeriani che spacciavano eroina anche a minori al Parco Giotto, mentre un mese più tardi erano scattati cinque arresti e sette denunce sempre con l'accusa di spaccio a conclusione di un'indagine nata dalla scomparsa e dal conseguente rinvenimento del cadavere di Luca Moretti.